Torna a Corridonia la Contesa della Margutta, giunta alla sua diciottesima edizione. Ne parliamo con il vicepresidente dell'Associazione Contesa della Margutta, Andrea Piccioni. Dunque, vicepresidente, tante giornate di festeggiamenti, Corridonia rivive il fasso delle antiche tradizioni. Sì, assolutamente. Questa rievocazione medievale, che ormai è giunta alla diciottesima edizione, della quale fanno parte tantissimi cittadini di Corridonia. Noi abbiamo un gruppo organizzatore che è il Consiglio di Cernita, che è composto da una decina di persone, che poi vengono coadiuvate dalle quattro contrate della città, di cui fanno parte tantissimi cittadini di Corridonia, che si stanno dando molto da fare per fare una manifestazione veramente eccezionale per quest'anno. Si comincia il 21 di giugno? Sì, assolutamente. Il 21 giugno apriamo con una serata medievale con banchetto e spettacoli presso la piazza Filippo Corridoni di Corridonia. Poi avremo un'altra serata clou, il sabato 22, con la rievocazione del Borgo Medievale, dove una parte della città di Corridonia ricadrà nel Medioevo, dove ci saranno spettacoli, saltimbanchi e tantissimi figuranti, più di 200 figuranti che in abito d'epoca animeranno questo borgo. Poi la domenica 23, il mercoledì e il giovedì successivi avremo dei giochi popolari tra contrate, che si contenderanno il paglio dei giochi 2013. Poi il venerdì avremo una novità che non c'è mai stata a Corridonia, ovvero il primo tofeo Terre di Montolmo. È una disfida tra gruppi di tamburi che verranno da diverse località delle Marche. Poi il sabato avremo un grandioso spettacolo in piazza della Compagnia dei Folli, una compagnia molto famosa e specializzata in teatro popolare e di strada, che animerà un grandioso spettacolo. E la domenica avremo l'ultimo evento della nostra rievocazione, domenica 30, con il corteo storico, con oltre 500 figuranti e ci saranno anche delegazioni di diverse altre rievocazioni delle Marche. E poi alla fine, all'Ippodromo Martini, faremo la contesa della Margutta vera e propria. Sindaco di Corridonia, presidente dell'associazione contesa della Margutta, dunque la sua città dal 21 al 30 giugno si prepara a vivere tantissimi eventi. Quest'anno, peraltro, c'è una bella coincidenza con il Santo Patrono. Sì, volutamente abbiamo anticipato la rievocazione storica proprio per le festività del Santo Patrono che coincide con i Santi Pietro e Paolo. Per la nostra città di Corridonia, giovane città da solo 80 anni il suo nome, ma legata al passato da Pausola a Montolmo, è importante portare avanti le nostre radici, le nostre storie e la rievocazione storica della Margutta certamente ci fa ritornare indietro nel passato. Grazie all'associazione che il sindaco protempero è sempre presidente, ma soprattutto grazie ai tanti collaboratori della Cernita, il vicepresidente Andrea Piccioni e tutti i capi contrari e tutti i volontari che voglio ringraziare anche per il loro lavoro che preparano il tempo precedente, un anno intero, per creare questi bordi mediovali, per creare altre novità, ma soprattutto anche per tenere in moto tante attività, quali abbiamo tanti giovani che fanno da tamburini, che si impegnano tutto l'anno per essere allenati, che poi sono un fiore all'occhiello della nostra città perché sono presenti in altre rievocazioni storiche della nostra regione e non solo, anche in altre parti d'Italia. Dunque quest'anno è una novità avere la Contessa della Margutta per i festeggiamenti del Santo Patrono, ma è anche una novità la nuova edizione rinnovata con tanti spettacoli per incontrarsi proprio in un periodo importante per Corridonia che è i santi patroni, anche patroni non solo religiosi, anche civili del nostro comune.